Il budget 2024 del Parco regionale delle Alpi Apuane presenta un risultato economico di gestione in equilibrio. Nell'aula di Palazzo del Pegaso, il Consiglio regionale ha espresso parere positivo a maggioranza sul biennio 2024-2026 del Lente. La votazione ha visto favorevoli PD e Italia Viva, l'astenzione del Movimento 5 Stelle e voti contrari di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il budget economico è stato adottato dal Consiglio direttivo del Parco con i pareri favorevoli sia della comunità del Parco che del collegio unico dei revisori degli enti. Il valore previsto alla produzione supera i 2 milioni. L'obiettivo specifico per il Parco delle Alpi Apuane mira a garantire il corretto funzionamento dell'ente. Il voto positivo sul budget economico del Parco da parte del Consiglio regionale è un atto molto significativo e importante, è un incoraggiamento, è un punto di partenza per il nuovo lavoro che abbiamo davanti. Vi permetto di ringraziare tutta la struttura, tutto il personale del Parco che ha lavorato in questi anni e soprattutto anche in questo anno in un momento anche difficile di passaggio con il pensionamento del direttore e del responsabile dell'ufficio tecnico. Quindi guardiamo avanti per rafforzare la struttura, guardiamo avanti per dare un segnale ai sindaci che ringrazio per la collaborazione per aprire una fase di investimento importante di crescita del territorio su progetti che valorizzino tutto il territorio del Parco.